Il tradizionale bilancio degli avvenimenti più importanti che hanno caratterizzato l'anno 2016 ricalca quello degli ultimi anni dal momento che non ci sono stati stravolgimenti nei settori più importanti della vita di tutti noi soprattutto se riferiti in primis all'occupazione per poi passare alla crescita, alla politica, alla crisi generalizzata che ha messo a dura prova molte attività produttive. A livello regionale non possiamo non mettere al primo posto il malaffare collegato alla ricostruzione post terremoto all'Aquila grazie alle forze dell'ordine ed in particolare alla guardia di finanza sono state scoperte tantissime truffe con il coinvolgimento di personaggi di primo piano arresti, denunce e recuperi di ingenti somme non hanno comunque scoraggiato imprenditori avvezzi alle truffe di ogni genere. C'è solo da sperare che nonostante tutto la ricostruzione possa proseguire per restituire dignità a centinaia e centinaia di cittadini onesti. Nel settore sanitario le polemiche hanno rappresentato il filo conduttore per tutti i politici abruzzesi di ogni provincia e di ogni estrazione politica determinati ad ottimizzare per il proprio territorio una sanità almeno dignitosa e rispondente alle aspettative dei propri amministrati. Purtroppo ogni tentativo portato avanti puntualmente si è scontrato con le esigenze anche giuste e giustificate di razionalizzazione della Regione delle spese sanitarie nel rispetto delle direzioni nazionali per rientrare nei parametri previsti dalle vigenti leggi. In questo contesto si inserisce la vicenda del reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Avezzano prima riattivato e poi chiuso anche se c'è l'impegno del manager dell'ASR Rinaldo Tordera di aprire quantomeno un presidio per le necessità più urgenti. Non si comprendono in ogni caso le reiterate prese di posizione della responsabile di neurochirurgia dell'Aquila Renato Galzio troppo impegnato a difendere il proprio orticello. Sulla fronte occupazionale segnali contrastanti il ridivenzionamento della cartiera Burgo di Avezzano e del cementificio di Cagnano-Miterno cui si contrappone la ripresa della SAIS e della FIAM di Avezzano in un futuro decisamente ricco di prospettive per la Health Foundry che ha ceduto la maggior parte dell'azione ai cinesi della SMIC. Un accordo portato avanti con grande intelligenza industriale dal manager Sergio Galbiati che ha avuto il merito di credere nel salvataggio dello stabilimento ridavato dalla Micron di mantenerlo produttivo garantendo i livelli occupazionali e di doare infine un partner tra i più importanti nel panorama mondiale per garantire un futuro certo a tutti i dipendenti. Analizzando i vari avvenimenti del 2016 partiamo dal mese di gennaio con due importanti avvenimenti la presentazione del Masterplan Abruzzo e del progetto Scuole Sicuro. Per il Masterplan esponenti politici regionali alla presenza di quelli locali hanno illustrato una serie di interventi previsti per Avezzano e Lamarsica nel settore delle opere pubbliche interventi destinati ad incidere positivamente nell'intera economia del territorio. Oggi abbiamo la deliberazione di giunta regionale del 22 dicembre 2015 diventata esecutiva in questi giorni dove c'è la partenza immediata di un progetto che per noi è un progetto di grande valore è il progetto di realizzazione rete irrigua a pressione dell'intera Piana del Fugli. Perché abbiamo voluto questo? col comitato dei sindaci presieduto dall'allora sindaco Salucci di Collelongo insieme a tanti sindaci bravi sindaci della Lamarsica perché? Perché non abbiamo voluto lavorare e pensare di lavorare per il contributo per comprare un trattore o per qualcosa no, vogliamo fare in modo che con questi finanziamenti di 50 milioni il cui inizio di lavoro è previsto proprio nel 2016 ci sia occupazione ci sia in parole poveri il rilancio dell'agricoltura in Abruzzo Importantissimo anche il progetto predisposto per la sicurezza degli edifici scolastici l'amministrazione comunale ha individuato una serie di interventi per rendere sicura la presenza degli alunni delle scuole comunali Abbiamo lavorato sin dall'inizio abbiamo trovato un finanziamento cipe confuso erano stati fatti dei fantomatici tre campus dall'amministrazione dove il consigliere che oggi capo gabinetto cerca un attimo di buttare fango sull'amministrazione e che praticamente avrebbero perso sicuramente quei finanziamenti noi ci siamo rimboccati le maniche finanziamenti che erano sospesi all'ufficio della ricostruzione abbiamo rivisitato tutti i progetti abbiamo dato fiducia ai nostri tecnici dell'ufficio tecnico comunale che hanno lavorato e voglio dare apprezzamento a queste persone perché hanno lavorato veramente con lena e con dedizione e siamo riusciti a riplasmare tutti questi finanziamenti dal prossimo anno sicuramente rientreranno dei 4 mili alunni che ospita le scuole di Avezzano 2.500 sono state interessate da questi interventi prossimo anno tre scuole ripartiranno ripartirà la Cairoli che è stata demolita e ricostruita la Vivenza che una parte è stata demolita un'altra parte invece è stata rimessa in sicurezza e una scuola di una frazione di Paterno che già i lavori sono ormai in fase di completamento nel mese di febbraio iniziano le operazioni delle forze dell'ordine nel settore della lotta agli stupefacenti che poi sono proseguite per quasi tutto il corrente anno da segnalare il sequestro ho creato degli agenti del comissario di Avezzano di ben 6 kg di droga Dottor Gennacro un'operazione importante che vi fa onore Sì un'attività rilevante frutto dell'impegno e della dedizione del mio personale come ho spiegato poco prima insomma nel contrasto alla detenzione dello sfruttamento della droga e lo spaccio della droga non sempre i risultati sono proporzionali a quello che è l'impegno ci vuole anche un po' di fortuna però la fortuna il mio personale sa cercarla sa trovarla sono state fatte degli accertamenti su una persona ovviamente che meritava un'attenzione particolare perché è sul nostro territorio è in Avezzano ha precedenti specifici e quindi è stato giusto sono stati intelligenti i miei operatori a credere in questa attività con un'attività tradizionale con l'appostamento che poi ha portato effettivamente a entrare in questa casa abbandonata dove si è trovato questo ingente quantitativo di droga nel mese di aprile viene presentato al pubblico il casino di caccia all'interno del parco Torlonia la struttura completamente in legno presentava i segni del tempo per cui necessitava di una ristrutturazione totale in grado di preservarla per gli anni a venire utilizzata nei periodi di caccia dal principe Torlonia anche in Francia conserva moltissime e preziosi testimonianze della città contadina abruzzese eccellenza oggi un altro pezzo del patrimonio di Torlonia torna finalmente alla città quindi possiamo dire che anche il casino di caccia appartenente al principe Torlonia torna agli abitanti che comunque l'hanno in un certo senso avvalorato con le sue gesta è una ricostruzione o comunque una restaurazione materiale però parliamo anche di una restaurazione spirituale quella che serve alla società ma certamente in bene e in problematiche ovviamente la famiglia Torlonia è legata alla storia della nostra terra ho detto in bene e in problematiche ecco senza fare in questo momento degli analisi storiografiche certamente la restituzione alla città di questo pezzo del parco Torlonia vuole essere soprattutto una restituzione non soltanto di una memoria storica ma una restituzione che diventi oggi una riofferta alla città di uno spazio di uno spazio direi dove la città possa ritrovarsi come una specie di ampio campo sculturale sempre ad aprile viene fatta un po' di chiarezza sulla vicenda della Power Group l'ipotizzata realizzazione cioè nella zona di Burgo in Cile a ridosso del fucino di una centrale a biomassima da sempre ostacolata dai cittadini e dalle associazioni ambientaliste la regione ha sancito il no il game over come abbiamo detto la conferenza di servizi ha preso atto di questa decisione per cui per quanto riguarda la regione Abruzzo e la comunità abruzzese è una pratica chiusa completamente chiusa certo è che abbiamo sentito l'esigenza e la necessità di fare questa conferenza di servizi per rendere evidente il percorso che è stato svolto finora come attraverso la visione di atti proietteremo infatti le copie degli atti che hanno determinato questa decisione affinché i cittadini possano farsi un'idea proprio sulla base delle carte come svolgirsi che poi sono gli strumenti attraverso cui la pubblica amministrazione esplica la propria attività quindi non con annunci né con comunicati stampa ma sulla scorta di fatti a maggio iniziano le prime preoccupazioni per le sorti dello stabilimento Vesuvios ubicato nella zona del nucleo industriale di Avezzano che realizza piastre per alti forni con lo sciopero dei dipendenti quelli che erano i timori delle maestranze e dei sindacati purtroppo a fine anni si concretizzano con la decisione della proprietà di delocalizzare all'estero la produzione con il conseguente licenziamento dei lavoratori Pare che anche in questa circostanza l'est europeo centri in qualche misura perché lì la manodopera non costa niente e qui invece è diverso e allora? Sì, il problema è che c'è questa riorganizzazione dei siti produttivi in Europa hanno già chiuso alcuni stabilimenti e potevano girare le produzioni di questi stabilimenti del nostro sito di Avezzano che tra l'altro con la posizione strategica che c'è l'Italia sul Mediterraneo perché noi forniamo anche Nord Africa e Medio Oriente potevamo assorbire queste produzioni ma il management europeo ha dirottato su siti dell'est Europa queste produzioni per il calcio per il calcio invece grazie all'impegno del presidente Gianni Paris l'Avezzano può iniziare una nuova stagione agonistica con rinnovato entusiasmo la società nella sala stampa dello Stadio di Marsi con largo anticipo presenta l'allenatore una vecchia bandiera del calcio bianco-verde il bomber Pino Tortora Come sei arrivato a Pino Tortora? Ma tutto arriva dalle emozioni dalle sensazioni e da quello che una persona ti dà anche senza dirtelo con le parole la comunicazione con Pino Tortora è stata quasi gestuale ci siamo visti pochi giorni fa in un locale abbiamo parlato per circa un'ora e da lì è nata penso la scintilla che ha portato insomma a questo binocchio con Pino Tortora mi piace pensare a questa idea dell'uomo venuto dal sud perché io poi mi sento più meridionale che alto e quindi come atteggiamento penso che sia la persona giusta per evitare che ci siano gli alti e bassi in una stagione dove spero veramente che l'Avezzano Calcio sia una sorpresa ma che possa essere una sorpresa annunciata sempre in tema di calcio segnaliamo un incontro tra i giocatori delle squadre che vincono i campionati di Serie 2 e C1 un revival con tante vecchie glorie che hanno risposto che in entusiasmo all'invito degli organizzatori Praticamente è rimasto come 20 anni fa Jimmy Wilson io dico in forma è corretto o sbagliato? No magari fosse così purtroppo gli anni passano e l'attività fisica non la facciamo più e quindi non direi in forma che ricordi hai di questa piazza di questa città? Questa città per quanto mi riguarda ha dei ricordi mi lascia dei ricordi stupendi perché è stato il primo anno che io sono entrato nel mondo professionistico tramite l'Avezzano tramite questa città tramite questa società e quindi non posso avere dei ricordi stupendi Proseguiamo con un appuntamento prestigioso nel campo dei motori la presentazione del circuito di Avezzano per Autodepoca manifestazione che negli anni si è imposta all'attenzione degli appassionati a livello nazionale grazie all'impegno dell'organizzatore Principe Felice Graziani Felice Graziani organizzatore animatore anima di questa iniziativa e di questa manifestazione importantissima tanto impegno tanto lavoro però alla fine anche tante soddisfazioni Sì questa sarà un'edizione molto bella perché abbiamo superato i 100 equipaggi e abbiamo equipaggi da tutto il mondo per noi per me personalmente è una grande soddisfazione perché ci dà modo di mostrare le bellezze della nostra città ma anche dell'Abruzzo e questo è importante per la promozione turistica abbiamo avuto il sottosegretario Dorina Bianchi che ha aperto la conferenza stampa di oggi ed è un segnale anche da parte del governo non solo da parte delle amministrazioni locali che già ci seguono da molti anni Il 29 giugno è una data destinata a segnare positivamente la storia dell'industria manufotteriera abruzzese il manager dell'El Foundry ingegner Sergio Galbiatti ufficializza l'acquisizione di una parte consistente delle quote della società da parte della SMIC cinese una operazione che sicuramente darà nuovo slancio all'attività produttiva con il mantenimento di livelli occupazionali e con prospettive di possibili nuove assunzioni In che ruolo strategico si inserisce questo rilevamento di quote? Allora questa è un'operazione in estrema sintesi mi sento di dire che è il coronamento di ciò che avremmo voluto che succedesse e onestamente pensavamo che ci sarebbe voluto più tempo non eravamo neanche sicuri che alla fine sarebbe stato SMIC poteva essere qualcun altro però il fatto che sia SMIC è devo dire forse probabilmente la cosa migliore che potesse succedere perché è l'azienda che sta crescendo a un ritmo più grande è un'azienda che pur avendo un quartier generale in Cina ha una radice e un'origine mista quindi il fatto che noi adesso siamo parte di quel team ma nello stesso tempo loro ci hanno chiesto di fare una joint venture non di comprarci la testimonianza del fatto che vogliono dare continuità a quello che abbiamo fatto però aprirci i loro mercati e attraverso di noi arrivare all'Europa in maniera come dire bene accetta perché per certi versi ci arrivano attraverso la nostra faccia per così dire a settembre con la ripresa dell'antità politica l'amministrazione comunale procede all'abbattimento dell'ultima casetta sismica costruita dopo il terremoto del 13 gennaio 1915 siamo in via Garibaldi proprio di fronte alla chiesa della Santissima Trinità c'è il sindaco assessori di Giurbani insomma tantissimi rappresentanti per fare che cosa sindaco che sta succedendo sta succedendo che una richiesta che è venuta dai residenti della parrocchia della Santissima Trinità circa un paio di anni fa di cercare di bonificare quest'area che è un'area a livello ambientale molto degradata dovevamo metterci le mani l'ho voluta fortemente lo sanno tutti lo sanno soprattutto i residenti di questa parrocchia lo sa Donennio lo sa il Priore ma soprattutto naturalmente ho dovuto convincere ma mettere nelle condizioni Bice che era l'occupante di questa casetta che confinava con questa area a fianco tutta degradata tutta rovinata dove molte volte anzi spesso mi veniva denunciata la presenza di persone strane il popolo marsicano non resta insensibile al terremoto che ha colpito Amatrice e di tanti altri centri della zona ed organizza una manifestazione per raccogliere fondi da destinare alla ricostruzione siamo felicissimi pieni di emozioni e contentissimi meglio di così non poteva andare non poteva andare e oggi è solo l'inizio immagino domani chi è questo signore vicino a te? è un caro amico di Amatrice che aveva un ristorante il ristorante Matru dove si mangiava benissimo e che purtroppo non c'è più ecco che cosa state facendo per riprendere a vivere? allora in questo momento stiamo cercando di fare queste iniziative e ringraziamo anche la presenza del pubblico che è venuto questa sera perché ci ha dimostrato tanta solidarietà come ha detto la mia collega e stiamo cercando di ripartire perché diciamo Amatrice sotto le macerie ci sono le nostre radici quindi abbiamo perso familiari amici cittadini e tutte le attività a novembre si acuisce la crisi della Santa Croce senza che si riesca a trovare una soluzione definitiva in attesa delle risultanze del bando regionale per l'assignazione della nuova concessione i lavoratori vengono licenziati e lo stabilimento bloccato ancora a novembre il giornalista vezzanese Filippo Fabrizi presenta il suo nuovo libro le donne d'Avezzano innanzitutto la scintilla che ha fatto scoccare in te l'idea di buttare giù questa terza fatica quando si è verificata dunque intanto io non è che da scrittore sono diventato cronista sono rimasto cronista cronista delle vicende delle persone dei personaggi di Avezzano e della Marsica quando è scattata questa scintilla chiamiamola così che mi ha spinto a fare questo terzo libro quando ho fatto il secondo libro qualcuno mi ha rimproverato dicendomi che in quel libro non c'era nessuna donna che erano tutti uomini ah sì allora io adesso ne farò un altro con tutte donne ed ecco che è nato Donne d'Avezzano per concludere non possiamo non fare riferimento agli innumerevoli furti in abitazioni in tutta la Marsica e nella provincia dell'Aquila in particolare ed all'arresto di decine e decine di spacciatori di droga da parte delle forze dell'ordine c'è da sperare in un 2017 più soddisfacente sotto tutti i punti di vista a partire da quelli occupazionali con meno tensioni più sicurezza benessere e serenità l'augurio che nel 2017 insomma possano realizzarsi i vostri sogni a partire Grazie a tutti